cari ciclo elettori e cari ciclo elettrici come diciamo la settimana scorsa qui tra un ponte e l'altro si perde il conto dei giorni non si sa più oggi che giorno è per esempio va bene maggio è un mese che sarà pieno di grandi cose non solo il giro d'italia ma anche per quanto ci riguarda lo scopriremo via via man mano settimana dopo settimana e intanto insomma noi torniamo a occuparci dei nostri amati libri sul ciclismo vai col libro del mese è una prima sorpresa è che non c'è un nuovo libro del mese oggi ci sarà settimana prossima per cui andiamo in regime di prorogazio come si usa dire in altri ambiti con beppe conti il suo fausto coppia il primo dei più grandi avrete un'altra settimana di tempo per comprare come libro del mese questo bel volume in cui beppe conti e tutta una serie di suoi e nostri amici si cimenta si cimentano con la classifica dei più grandi di tutti i tempi naturalmente beppe conti dedica il libro il titolo il primo posto della sua classifica a fausto coppi nel centenario della nascita del grande fausto del campionissimo però è interessante andare anche oltre a leggere i ritratti tutti questi campioni scritti da beppe conti è interessante andare a leggere anche le classifiche e le motivazioni dei suoi ospiti degli ospiti che sono presenti in questo bel volume di grafo editore fausto coppi il primo dei più grandi ancora una settimana libero del mese sembra anche strano ma nelle classifiche nelle 23 classifiche proposte dagli amici di beppe conti sicuramente non in quella di beppe conti ma neanche nelle altre 23 mi pare di aver notato il nome di ottavio bottecchia che pure è un grandissimo è stato un grandissimo corridore primo italiano vince il tour de france nel 24 nel 25 già secondo nel 1923 e poi una carriera brevissima finita troppo presto nel 27 a causa di una morte rimasta da sempre a volta il mistero perché dico tutte queste cose su ottavio bottecchia perché va a presentare appunto un libro che parla di lui bottecchia il forzato della strada scritto per ediciclo editore da paolo facchinetti un grande giornalista e storico del ciclismo con pianto e questo libro ripercorre appunto la carriera questa breve fulgida carriera di ottavio bottecchia che vive un po in un limbo in una dimensione particolare tutta particolare perché perché è arrivato troppo presto per essere narrato dai grandi cantori del ciclismo che vennero magari un po dopo grandi scrittori che si misuravano poi con la con le gesta dei corridori sulle strade del giro d'italia per esempio ed è molto troppo presto per poi diciamo sostanziare un ricordo negli anni successivi perché per esempio se noi pensiamo a costante girardengo che era suo contemporaneo girardengo ha avuto tutt'altra letteratura poi in seguito al contrario di bottecchia che invece è finito un po nel dimenticatoio certo la sua figura umana la sua vicenda umana non poteva lasciare indifferenti poi nel tempo anche dei dei romanzieri dei giornalisti degli studiosi degli storici del ciclismo per cui di libri su bottecchia alla fine poi ne sono usciti ne sono stati pubblicati e questo è uno dei migliori come ho detto ripercorre la sua carriera non si esime dall'andare a cercare anche delle ipotesi sulla morte perché è naturale che venga fatto ciò morto misteriosamente trovato massacrato era caduto non era caduto era stato aggredito chi lo sa nel 27 poi c'è una bella emeroteca finale con delle foto prime pagine di giornali di riviste è un altro motivo per cui bottecchia forse è goduto di meno fama meno fortuna rispetto ad altri corritori e anche che era in viso al regime che proprio in quegli anni negli anni della sua esplosione prendeva il potere in italia e si radicava sempre più diciamo al comando dell'italia il regime fascista bottecchia era un vecchio socialista che non aveva mai abbiurato alle sue alla sua fede politica pur avendo preso poi per necessità per convenienza per quello che volete per obbligo la testa del partito fascista comunque tutto questo lo ritrovate nel bellissimo libro di paolo facchinetti bottecchia il forzato della strada anche una bella edizione come sempre per i di ciclo editore da un friulano che praticamente era stato adottato dai francesi dalla francia bottecchia a un altro friulano che è stato adottato dalla francia pietro polo perrucchin narrato in questo libro di giacinto bevi l'acqua per albe edizioni pietro polo il più forte gregario di francia come bottecchia era diventato bottecchia lui diventò pietro polo in italia praticamente sconosciuto leggiamo sul libro del nostro amico giacinto bevi l'acqua in francia invece quasi idealizzato come un gregario come il gregario migliore appunto come dice il titolo il più forte voluto dai più grandi campioni d'oltre alpe a partita lui son bobe e autore insomma di una carriera di tutto rispetto in cui questo friulano di ferro riuscì anche a sfiorare diverse imprese però insomma viene ricordato come un gregario io onestamente non lo conoscevo e quindi immagino che anche molti di voi non perché non lo conoscessi ma perché insomma è un nome di seconda di seconda fila per il ciclismo degli anni cinquanta immagino anche molti di voi non lo conoscessero e questo può essere questo bel libro può essere un buon motivo un bel motivo una ragione insomma per un'occasione per conoscere meglio pietro polo mi si affastellano le parole pensieri chiudiamo con ciclismo di alfonso bietolini corsa city bike mountain bike questo è un manuale edito da De Vecchi in cui si analizza un po tutto quello che riguarda la bicicletta dalla storia del mezzo c'è una bella storia in pillole nella prima parte del volume a consigli su cosa scegliere come scegliere le varie parti della bicicletta poi allenamento alimentazione accessori vestiario tutto quello che volete percorsi come si fa a condensare in 120 o poco più pagine tutto lo scibile relativo al ciclismo naturalmente non è possibile si avrà sempre una soluzione parziale però è sempre molto interessante accostarsi a uno di questi volumi ne abbiamo anche altri in vendita oggi vi presento questo che peraltro è anche molto bello graficamente impaginato molto bene da De Vecchi ripeto è utile piuttosto che buttarsi così alla cieca se si dice se si decide di abbracciare il ciclismo piuttosto che buttarsi alla cieca forse una fase di teoria può essere prodromica è utile a questa questa all'effondersi di questa passione ma come parlo come farlo visto che mi sono dilungato parecchio nel segmento precedente cerchiamo di stringere e andiamo con una paginetta di Mimmo Franzinelli il giro d'italia dai pionieri agli anni d'oro una paginetta piena dense di cose di notizie però stringata nello stile dell'autore di questo libro veramente fantastico edito da Feltrinelli il giro d'italia dai pionieri agli anni d'oro nel 1933 nel 1933 si registrano tre significative novità uno l'esordio della carovana pubblicitaria con attrazioni e spettacoli promozionali nell'entourage del giro due la concessione di a buoni oltre che per la vittoria di tappa per il neo istituito gran premio della montagna 3 l'introduzione delle gare a cronometro nella bologna ferrara vinta da binda e presentata da cugnè con lo slogan ognuno per sé contro tutti e contro il cronometro nella sesta tappa grosseto roma guerra urta con la ruota anteriore binda cade viene travolto da atti ciclisti ed è ricoverato d'urgenza in ospedale con profonde ferite al volto binda coglie la quinta vittoria con dodici minuti e mezzo di vantaggio su de muiser rassegnato ai secondi piazzamenti ma irritato per essere sconfitto dagli abboni binda vince sei tappe e tutti i gran premi della montagna accumulando 15 minuti e mezzo di abboni decisivi per le sorti della corsa la voce del padrone casa discografica incide su disco l'inno del giro chi sarà la maglia rosa che trasmesso dal layer come sigla della radio cronaca furoreggia e viene fischiettata dai tifosi alle 296 mila lire date dagli organizzatori si aggiungono i premi speciali offerti per motivi propagandistici dal duce e dal partito nazionale fascista il cui segretario achille starace presenze all'arrivo dei corritori all'arena di milano contestualmente lo sciovinismo alimentato dal regime sfocia in una campagna giornalistica denigratoria contro il tour testimoniata dalla monografia il giro di francia è un blef venduta a 60 centesimi tipico prodotto del nazionalismo mussoliniano che contrappone i pregi dell'italia vittoria ai demeriti stranieri guardate questo libro è che contiene un sacco e una sport di questi particolari meravigliosi mimo franzini il giro d'italia dai pionieri degli anni d'oro fedriendi